Ciao a tutti e bentornati sul mio canale, come state? Oggi sono qui per rispondere ad alcune delle vostre domande, come vi avevo promesso nell'ultimo vlog. Queste domande me le avete fatte su Instagram, quindi se ancora non mi seguite su Instagram, potete seguirmi. Allora, questo video sarà molto lungo, non molto lungo, ma sarà lungo. Quindi vi consiglio di mettervi comodi e di prendere qualcosa da bere. Vi avverto che in questo video parleremo di religione, del sistema scolastico, delle prossime lezioni. Quindi, se avete un problema con questi argomenti, non guardate questo video. Allora, iniziamo con la prima domanda che riguarda il sistema scolastico in Italia. Vi metto la domanda qui così potete leggerla insieme a me. Ciao Lucrezia, vorrei sapere come funziona l'educazione in Italia. L'istruzione. Educazione vuol dire avere educazione, essere educati e gentili, quindi istruzione. Come funziona l'istruzione in Italia? Se gli insegnanti sono rispettati dagli studenti e dai loro genitori, se la società riconosce il loro lavoro, se è un lavoro ben retribuito, questo genere di cose. Grazie. Partiamo con la prima domanda. Gli insegnanti sono rispettati dagli studenti e dai loro genitori? Generalmente sì, ma ci sono dei casi in cui la risposta deve essere no. Con il tempo, il rispetto degli studenti e dei genitori verso gli insegnanti è diminuito molto. Sto parlando di scuole elementari, scuole medie e liceo. L'università è un caso diverso. La mia risposta vale, come ho già detto, per le scuole elementari, scuole medie e liceo. Qui il rispetto va scemando, perché i genitori si intromettono troppo e non danno il giusto peso all'autorità degli insegnanti. Quindi rispetto al passato, quando quello che diceva l'insegnante era sacrosanto, era la regola, e i genitori rispettavano totalmente quello che l'insegnante diceva, adesso se l'insegnante dice a un genitore che il suo figlio è incompetente, che va male a scuola, il genitore si arrabbia con l'insegnante, invece che con il figlio che non studia. Le situazioni sono decisamente cambiate. A volte gli insegnanti hanno paura della reazione dei genitori e quindi non prendono certe decisioni per questo motivo. Nel sistema scolastico sono gli insegnanti che decidono, giusto, e che hanno l'autorità, devono avere autorità. Spesso gli studenti non hanno rispetto per gli insegnanti perché sono i genitori che non insegnano ai loro figli e quindi il rispetto per l'insegnante. Questo, purtroppo, è una realtà. La seconda domanda era se la società riconosce il loro lavoro. Diciamo che sì e no. Sì, perché ovviamente la scuola è importante, no? Però, allo stesso tempo, la società, o meglio il governo, non riconosce appieno il lavoro degli insegnanti perché i finanziamenti alle scuole pubbliche sono pochi, molti insegnanti sono precari, quindi lavorano per anni come sostituti in giro per le scuole prima di avere una cattedra fissa, prima di avere un lavoro fisso. E, ovviamente, è frustrante per alcuni insegnanti che perciò non mettono il 100% nel loro lavoro. Ovviamente, ci sono degli insegnanti bravissimi. Io, nella mia, diciamo, nella mia esperienza di scuola ho avuto degli insegnanti stupendi. La mia insegnante di italiano alle medie era fantastica, mi ha insegnato tantissimo, ma ho anche avuto degli insegnanti che non hanno insegnato nulla perché il loro obiettivo era solamente quello di prendere lo stipendio. Quindi, per esempio, io ho studiato il tedesco al liceo, ma non so una parola di tedesco perché l'insegnante non veniva mai a scuola e quando veniva non facevamo nulla. Quindi, vedete, ci sono degli insegnanti ottimi e degli insegnanti incompetenti. È un lavoro ben retribuito? Allora, non ho un'idea precisa su quanto guadagni un insegnante, ho una vaga idea, ma non ho un'idea precisa. Allora, scusate se interrompo la vostra visione, ma devo fare una rettifica. Cioè, ho controllato delle informazioni su internet e ho visto a quanto ammonta mediamente lo stipendio mensile di un insegnante. Dobbiamo dire che varia molto dal tipo di scuola, quindi se è scuola elementare, media o liceo. E lo stipendio varia anche in base agli anni di anzianità, cioè quanti anni ha lavorato la persona come insegnante. Ho trovato una tabella su un sito che penso sia una fonte abbastanza seria e che vi lascio il link nell'info box sotto a questo video. Allora, questa è la tabella di cui vi parlavo. Ho voluto fare questa piccola intrusione perché mi sembrava giusto cercare qualcosa di più concreto. Quindi sì, le mie idee non cambiano. Adesso può continuare il video. Il lavoro dell'insegnante è di mezza giornata, quindi la mattina e ovviamente nemmeno tutta la mattina perché dipende dalle ore che ha in calendario. Alcuni giorni della settimana gli insegnanti sono occupati con i colloqui, con i collegi dei docenti, le riunioni dei docenti, eccetera. E poi hanno tre mesi di vacanze durante l'anno, ok? Ovviamente non sono tre mesi pienissimi di vacanze perché hanno sempre riunioni, scrutini, collegi dei docenti, eccetera. Però rispetto ad altri lavori, quasi tre mesi di vacanze ogni anno sono tanti. Tre mesi di vacanze estive più le vacanze di Natale, di Pasqua, tutti i ponti, eccetera. Quindi, preso in considerazione tutto questo, non penso che lo stipendio sia troppo basso, non penso neanche che sia troppo alto. Non so se sia uno stipendio giusto, ma ci sono tanti bonus, diciamo, per gli insegnanti, non dal punto di vista monetario, ma dal punto di vista di tempo. Ovviamente ci sono insegnanti che si impegnano di più, che veramente hanno a cuore i propri studenti e quindi, secondo me, quegli insegnanti che insegnano tanto non hanno valore e dovrebbero essere pagati molto di più di quanto non lo siano. E poi ci sono quegli insegnanti a cui non interessa nulla, che mettono voti a caso e vengono in classe solamente per fare presenza e quindi quelli, secondo me, non dovrebbero essere pagati affatto. La seconda domanda riguarda i giovani e il lavoro. Secondo te, com'è la situazione lavorativa per i giovani in Italia? Cioè, c'è lavoro oppure i giovani partono all'estero in cerca di opportunità? Qual è il tipo di lavoro più comune, il lavoro indipendente o in un'azienda? Allora, voglio cominciare a rispondere all'ultima domanda. Quindi il lavoro più comune è quello da dipendente, quindi in un'azienda privata o per il settore pubblico. Il sogno è quello di avere un posto fisso, il tanto desiderato posto fisso. Posto fisso vuol dire un contratto a tempo indeterminato con uno stipendio fisso al mese. E il lavoro da dipendente è il lavoro più comune. Il lavoro indipendente, quindi come libero professionista, esiste in Italia, ma rispetto al lavoro da dipendente la percentuale è più bassa. Il lavoro scarseggia per i giovani, principalmente perché ovviamente con l'ultima riforma delle pensioni l'età pensionabile si è allungata di molto. Perciò non c'è un cambio generazionale nel mondo del lavoro. È molto richiesta la partita IVA per lavorare, perché è un modo di assumere persone molto più snello, molto più facile. Perché ovviamente il contratto con una partita IVA è diverso da un contratto a tempo determinato o indeterminato. Dal punto di vista di lavoro dipendente è un po' difficile trovare un lavoro fisso, ma le opportunità per un lavoro a tempo determinato ci sono. Molte persone vogliono il posto fisso e il posto fisso è un po' difficile da ottenere. Tutti gli altri tipi di lavoro ci sono, i lavori stagionali, i lavori a tempo determinato, i contratti a partita IVA. Se si ha un'idea, un progetto, secondo me è possibile realizzarlo. Ovviamente servono sacrifici, serve lavoro, ma come in tutto, no? Molti giovani partono per l'estero per trovare altre opportunità, molti laureati partono con già un lavoro. Quindi hanno fatto il colloquio per esempio su Skype o per telefono e quindi quando vanno nel paese estero già hanno un lavoro. In altri casi molte persone partono, così, allo sbando, allo sbaraglio, con il sogno di trovare un lavoro nel momento in cui si trovano nel paese estero. Quindi molta gente parte senza avere una preparazione, ma il sogno estero difficilmente si realizza senza un progetto, senza un piano di azione. Tantissimi italiani negli anni passati partivano per Londra e andavano a lavorare nei ristoranti, nei negozi, eccetera. Adesso, dalle statistiche, si nota che con la Brexit c'è un calo dell'emigrazione di italiani verso Londra notevole. Perché ovviamente adesso non è più possibile andare e tornare dal Regno Unito come si vuole, perché dal 2019 servirà un visto. Ok, penso di aver detto tutto. Volevo dire una cosa, ma mi sono scordata. Ok, allora, non ho qui la domanda, ma su YouTube, sull'ultimo vlog e anche su Instagram, alcuni di voi mi hanno chiesto di spiegare un po' come funzioneranno le elezioni 2018. Sapete che il 4 marzo in Italia ci sono le elezioni per il nuovo governo. Allora, vi spiego un po' per cosa si vota e come si vota. Praticamente le elezioni si terranno il giorno 4 marzo, tutta la giornata. Di solito si vota dalle 7 fino alle 21, alle 22, non so esattamente adesso in questo caso l'orario, però il 4 marzo. Una giornata intera per votare e si voterà sia per la Camera dei Deputati che per il Senato. Per la Camera dei Deputati possono votare tutti i maggiorenni, quindi dai 18 anni in su. Per il Senato, invece, si può votare solamente se si ha dai 25 anni in su. Quindi io quest'anno voterò per la prima volta anche per il Senato, perché ho 25 anni. Queste elezioni sono le prime elezioni in cui si applicherà la nuova legge elettorale che era stata votata il 3 novembre del 2017. Il cosiddetto Rosatellum, perché il parlamentare che ha proposto questa nuova legge si chiama Rosatto e quindi il nome della legge è il nome di questo parlamentare. Praticamente questa legge prevede un sistema elettorale misto a separazione completa. Praticamente perché è stato, diciamo, votato il sistema misto? Perché evita la poca rappresentanza nel Parlamento dei vari partiti e poi evita anche la frammentazione politica. che ovviamente la frammentazione politica porta poi ad una difficoltà nel governare, no? Nel fare leggi, nel leggiferare, eccetera. Allora, un'altra domanda, diciamo, inerente che mi avete fatto è chi sono o quali sono i partiti che si presentano alle elezioni? Sono tantissimi. E quindi vi dirò solamente i partiti o le coalizioni principali, perché onestamente non conosco tutti i partiti, perché sono tantissimi. Sfido chiunque a conoscere tutti i partiti. I partiti o le coalizioni quelle considerate principali sono la coalizione di centrodestra, la coalizione di centrosinistra e il Movimento 5 Stelle. La coalizione di centrodestra è formata da Forza Italia, Lega, Fratelli d'Italia e Noi con l'Italia. La coalizione di centrosinistra è formata dal Partito Democratico, Più Europa, Civica Popolare Lorenzin, Italia e Europa insieme. Oltre a questi tre blocchi ci sono anche altri partiti, come Liberi Uguali, che è di sinistra, Casa Pound Italia, che è di destra, estrema destra. Li sto leggendo, perché non li so a memoria. Potere al popolo di sinistra radicale, il popolo della famiglia di destra, Italia agli italiani estrema destra, Partito Comunista estrema sinistra, Partito Valore Umano trasversale, un po' di tutto, non lo so. Partito Repubblicano Italiano ALA, che è di centro, e per una sinistra rivoluzionaria estrema sinistra. Quindi, vedete, c'è un po' di... un po' di tutto. E, ovviamente, sono tutte informazioni oggettive e obiettive che potete anche trovare su internet. Poi, vediamo se mi sto scordando qualche domanda. Sì, ovviamente, la domanda sulla religione. Allora, questa domanda è in inglese. I would love to know if religion still plays a big role in Italy. I think a lot of people have this view of Italians being very Catholic and maybe conservative, which is fair enough because you have the Vatican and so on. Here in Belgium, religion, Catholicism, is mostly important to older generations. For example, me and lots of people I know were baptized, but only for the tradition, not because we actually believe in God. How's that in Italy? Is it a part of everyday life or other religions common in Rome and elsewhere? A Roma ci sono molte comunità che non sono di religione cattolica. Per fare un esempio, a Roma c'è la più grande moschea d'Europa. Ci sono altre religioni? Ovviamente il cattolicesimo è la religione principale, ma ci sono anche altre religioni. Una domanda è se la religione ha un ruolo molto importante nella vita di tutti i giorni. Allora, nella mia esperienza, no. Io non vado in chiesa e la maggior parte delle persone che io conosco, che io frequento, non vanno in chiesa. Ovviamente, non andare in chiesa non vuol dire che io non sia credente. Credo, ma non credo nella chiesa. Io so già che riceverò... Oddio, non voglio leggere i commenti in questo video. Comunque, io ho il battesimo, ho la comunione, ho la cresima. Mi manca solo il matrimonio e l'estrema unzione, ma quello si vedrà in futuro. Perché ovviamente crescendo è tradizione andare a catechismo e prendere i sacramenti. Perché forse quando ero piccola ero un po' influenzata dai miei genitori e quindi ero convinta di quello che facevo. Crescendo ho cominciato a ragionare un po' con la mia testa. Le persone anziane, ovviamente sì, le persone anziane tengono molto al fatto di andare in chiesa. I miei nonni vanno sempre in chiesa. Se non vanno in chiesa si sentono male. Quindi sì, le persone più anziane sono molto attaccate al fatto di andare in chiesa. È una tradizione per loro, perché l'hanno sempre fatto e quindi sempre lo faranno. Ci sono anche dei giovani della mia età che vanno in chiesa, che vanno sempre in chiesa. C'è questo stereotipo, no? Che noi italiani siamo molto religiosi perché abbiamo il Vaticano qui, soprattutto qui a Roma. Dovremmo essere molto religiosi perché c'è il Vaticano. Ma in realtà no, non è così. Diciamo, quello che mi preme dire è che non tutti gli italiani sono credenti. Ci sono degli italiani che sono atei e quindi la presenza del Vaticano qui in Italia... Ma in realtà il Vaticano non sta in Italia. Il Vaticano è lo stato del Vaticano. È uno stato differente. Vaticano e Italia sono due cose diverse dal punto di vista governativo e amministrativo. E quindi il fatto che nello stato italiano ci sia lo stato del Vaticano non significa nulla. Penso di aver detto tutto e penso che questi argomenti siano interessanti un po' per tutti, ovviamente. senza pregiudizi, senza, come posso dire, negatività. Sono cose della vita che fanno parte della vita. La religione, la politica... È vita! Quindi perché non parlarne in modo sereno insieme? Grazie mille per aver guardato questo video e noi ci vediamo nel prossimo. Nel prossimo video vorrei parlare di uno di questi due argomenti. O la differenza tra pronomi oggetto diretto e pronomi oggetto indiretto, oppure della differenza tra i verbi transitivi e i verbi intransitivi. Quindi quale preferite, pronomi o verbi, fatemi sapere lasciando un commento qui sotto, ok? Grazie mille e ci vediamo presto! Ciao!